Era un pomeriggio triste e noioso e mentre spregavo il mio tempo libero per cercare nuove idee per il canale e sbagarmi un po' Beh, continuavo a non trovare nulla Finchè improvvisamente qualcosa mi colpì in testa Ehi! Cos'era? Presi nelle mie mani l'oggetto che mi era appena arrivato in testa E fu lì che mi venne un'idea Sì! Animal Crossing New Leaf torna sul mio canale dopo anni Non c'è mai stata una vera serie e proprio per questo sono qui per proporvela come serie estiva Ma questo dipenderà solo da voi Vi chiedo 500 like affinché questa serie continui Beh, dipenderà tutto da voi e se volete vedere come me la caverò su Animal Crossing New Leaf Iscrivetevi al canale, noi iniziamo subito Come ho già detto non è la prima volta che gioco a New Leaf Ci ho giocato molto tempo fa sul canale ma ho fatto solo pochi episodi Quindi questa volta ho intenzione con il vostro supporto di portare la serie per tutta l'estate Poi chissà magari anche oltre però intanto per tutta l'estate Parliamo con Girolamo che ci dice Oh scusami, avrei una domanda veloce per te perché manco entri nel treno già ti importunano Beh, almeno una cosa è sicura Hanno messo Girolamo su New Leaf come primo personaggio che incontri Visto che su New Horizons quasi quasi non lo incontri proprio Comunque se sentite il rumore e il ventilatore ma perché c'è troppo caldo Soffrite con me Potresti dirmi come ti chiami? Se non ricordo male qua le lettere sono un po' shiminzide Quindi comunque non abbiamo tanto spazio e non ci possiamo chiamare Lightning Quindi ci chiameremo semplicemente Light perché non bastano i caratteri Mi sembra un nome eccezionale, sinceramente e modestamente lo so Forte? Sì, davvero un nome forte, mi sembra perfetto per un ragazzo in gamba come te Ma, ehi, ma sono una ragazza, non sono un ragazzo Questa è una cattiva figura Girolamo, qua fai veramente cattiva figura Ah, sei una ragazza, non si vede? Lo so che non ho le tette però sì Allora Light, dimmi dove stai andando, come si chiama la città? E qua abbiamo un problema ragazzi Perché devo mettere il nome della città E non mi entra Io dico Nintendo, ma qual è il tuo problema? Dico, non è che se mettevi 10 slot per il nome pagavi extra Dico, una casella, comunque non lo so Non lo so, come si chiama la mia città? Va bene, ho trovato un compromesso Lighty Way però scritto Lighty V Che non suona comunque male Nella città di Lighty V Ora, lo pronunceremo Lighty Way o Lighty V? Sotto nei commenti fatemi sapere Mi sa che siamo arrivati Lighty V ci aspetta Come cambierà quest'isola? Sono proprio, in realtà città, va bene Sono proprio curiosa di scoprire L'evoluzione di questa Lighty V Perché per adesso ovviamente è vuota Eccoci arrivati Devo dire che le scimmiette sono molto molto più carine dei dodo Se devo scegliere tra una scimmia e un dodo Io preferisco la scimmia Oh, devo dire che il mio look non è poi così male Ho visto di peggio Salve a tutti! Eccoci qua! Il gioco ci spoilerà subito i nostri abitanti Abbiamo Carmine Diciamo che è Rolf E poteva andarci meglio Decisamente A livello di abitanti, pessimi Attenzione tutti quanti È arrivato il momento Pronti? Benvenuta! Grazie, grazie Che bello rivederti Fuffi Mamma mia Sindaco Siamo entusiasti del tuo nuovo arrivo Sindaco io? Io? What? Haha Ma dai, si seria Sei benissimo di chi sto parlando No, ti giuro Ci hai fatto anche sapere che Con che treno sareste arrivata Qui c'è un malinteso C'è un malinteso Non ci starei mica ripensando, vero? Ma no, non devi preoccuparti Andrei benone Sai cosa ti dico? Un po' di sana paura farà di te Un sindaco migliore Ehi, aspetta! Ma io non so di che cosa stanno parlando Perché mi devono appioppare per forza lavoro? Beh, possiamo continuare a parlare al municipio Che ne dici? Ecco una mappa di Light TV Per aiutarti a trovare la strada Sindaco Light Eppure sarei un sindaco Niente male Sinceramente Lì con la lampeggiante Che vedi sulla mappa E il municipio Dai, andiamo insieme Ehm Veramente brutti gli abitanti Abbiamo le mele Come primo frutto Attenzione Questa è la piazza Che ancora Non è proprio una vera piazza Ma lo diventerà presto Vero, Fuffi? E questo è il municipio Devo dire Molto molto carino Una versione più small Di quello di Animal Crossing Però Beh, è stato riprodotto fedelmente Su New Horizon Molto più grande Moderno Però questo Devo dire che non è niente male Va bene Andiamo a parlare In privato con Fuffi Fuffi Il tuo posto Penso ormai sia chiaro a tutti Che è dietro una scrivania Questo municipio Sarà il tuo quartiere generale Di sindaco Oh Stavo dimenticando di dirti Anch'io lavoro qua Praticamente La cosa figa di questo gioco È che abbiamo Fuffi Come segretaria Cioè, è bellissimo Fuffi non lavora per Tom Nook Ma lavora per noi Cioè, ragazzi Giocherai a New Leaf Solo per questo Mi chiamo Fuffi E sono la tua segretaria Per qualsiasi cosa Di cui tu abbia bisogno Chiedi pure a me Sarò lieta di assisterti Beh, a dire il vero Mi sono stupida Quando ho visto arrivare Una ragazza così giovane Vedi Il sindaco precedente È stato in carica per anni Ed era tipo Ed era un tipo Piuttosto tradizionale Per non dire vecchio Essendo Che si parlava di Tortimer Cioè, molto vecchio Una vent'ata di aria fresca È proprio quello che ci vuole Alla TV Sei perfetta per questo lavoro Bene Scommetto che non vedi l'ora Di cominciare A esercitare i tuoi poteri Di prima Cittadina Beh, in realtà No Però vorrei comprare una casa Dobbiamo occuparci Della tua iscrizione Nel registro dei residenti Della nostra città Allora Sindaco Come ti chiami? Come come Ah, sì, giusto Ma infatti Stavo dicendo Fuffi Ma che mi commini Il nome ce l'abbiamo già Anci Fuffoli Non lo dice mai Signor Aizan Cifuffoli Come ho fatto A dimenticare Una cosa così importante Per iscriverti Nel registro dei residenti Ho bisogno Del tuo indirizzo Light Hai già trovato casa? Ora Come ora Non ce ne sono Di sfitte Ma puoi costruirne una Prima di procedere A più Ho bisogno di sapere Dove hai intenzione Di andare ad abitare E non lo so Ah, Cifuffoli Ti ho fatto venire Il municipio per niente Scusa la disorganizzazione Se attraversi i binari Della ferrovia Arriverai In via degli acquisti Li troverai Imonook L'agenzia immobiliare Della nostra città Ah, Nei nocchiate la mappa Ti sarà utile Eccoci in via degli acquisti Qua abbiamo La bottega Di Mirko e Marco Attenzione Il negozio Di Ague e Filo Altri posti Che dovranno aprire Il museo Che è già aperto E dove era L'agenzia immobiliare A sinistra Quindi Questi tre negozi Ovviamente arriveranno Penso altre strutture Da questa parte Abbiamo la posta Angolo foto Altre cose Che dovranno aprire E L'Immo Nook Agenzia immobiliare Di Tom Nook Ma voi avete giocato A New Leaf? Fatemelo sapere sotto Nei commenti Salve Salve Benvenuta Benvenuta Ah, tu devi essere Il nuovo sindaco Devo dire che Tom Nook Ha sempre lo stesso maglione Caro Tom Nook Con i soldi Che ti sei fatto Con i nostri Portafogli Potresti cambiare Potresti cambiare maglione Perché dopo anni Vederti sempre Con lo stesso maglione Fai impressione Tu devi essere Il nuovo sindaco Fuffi Del municipio Mi ha detto Che saresti passata Di qui È un onore Darti il benvenuto A nome di tutti i commercianti Di LeTV Light Sei qui perché Vuoi costruire una casa Beh, perché dovrei entrare In un'agenzia immobiliare Se non dovrei costruire Una casa Che poi Non è che la voglio costruire La voglio comprare Io visto che lavoro Vicino al municipio Sinceramente La mia casa Lavorrei molto Molto vicino Perché non ho Nessuna voglia Di fare la strada Ma poi La casa si può spostare Perché ho paura Che poi Non si possa spostare Però La metterei Vediamo No Qua è un brutto punto La metterei vicino Al ponte A questo punto Da notare Che Tom Nook Si è messa la giacchetta Non mi dire Che senti freddo Nook Cioè addirittura La giacca La metterei vicino Qua Questa Secondo me È una zona perfetta Qua 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 Anche se là C'è un'altra casa Qua Questo è il punto Bene Sì Esattamente Voglio costruire Qua la mia casa Che catapecchia Però Da notare Che qua Ci hanno dato Una casa Mica Una tenda Cioè Non dimentichiamoci Che su New Horizon Siamo andati ad abitare In una tenda Vabbè Mi piace Bello Beh Ora dimmi Quanto vuoi Ecco Ecco Comprese il prezzo Del terreno I materiali I costi di costruzione Eccetera Fa un totale di Uffa Che fatica A fare i conti Adesso Facciamo che te lo dico Con più calma No Ma tu non mi puoi lasciare Così in tredici Con quest'ansia Dei debiti Ragazzi Io ho bisogno di sapere Quanto devo pagare Ho l'ansia Scommetto che devi essere Occupatissima Con il trasolo Che tutto il resto Magari Passi l'agenzia Più tardi Appena In un attimo di tempo Così ti do la mia parcella Ok Sì tanto non ho soldi Ci fanno comunque Comunque tornerò da te Sicuramente Fidati Verrò a chiederti Quanto ti dovrò dare Tu aspettami Che io Sicuramente arrivo Ragazzi Tour della mia tenda Su Animal Crossing New Leaf Wow Non c'è assolutamente Niente Bello Oh levati Ah non voglio parlare Con nessun abitante Però adesso Siete terribili Cioè ma com'è che io Sempre questa sfiga In qualsiasi gioco Esistente Di Animal Crossing Trovo sempre degli abitanti Veramente Schifosi Vorremmo che piantassi Un albero in piazza Così diventerai il simbolo Della nostra canale tv Seguimi Ti faccio strada io Devo dire che come piazza È veramente terribile Avrebbero potuto fare di meglio Cioè Immaginatevi una che arriva E trova una città Del genere Fugge Perché dice Ma dove sono finita Allora Piantiamo questo bellissimo Alberello Però non lo annaffio Eh Voilà Grazie a tutti E fu così Che il giorno 22 giugno Ricordatevelo 2024 Il sindaco Light Fece il suo ingresso Trionfale Vabbè Trionfale Stiamo esagerando Nella città di Light TV Bene Ci hanno spoilerato Gli altri due abitanti Che sono Un uccello verde Terribile Un canguro rosa In questo gioco Tu no Tu no Tu per niente Però sei l'unico Che salverei Tra tutti gli abitanti A te piacciono i dolci E i pisolini E i fumetti Dimmi di sì Vabbè dai Fumetti sì Sarebbe bello Sarebbe bello condividere Tutte le mie passioni Con te Mamma mia Questo è brutto Mamma mia Liska Ditemi che si possono Mandare via Gli abitanti Perché io questo Non me lo tengo Nella mia isola Eri un sacco trendy Oggi Mentre piacere No Già che mi parla così No 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 Via Subito Via Non ci sono dubbi Sarai una figura Super mega importante Per la città Sì E la prima cosa Che farò da sindaco Sarà spedirti In un'altra isola Città Quello che è E con lui Vi ho parlato C'era la tigre Qua Vieni Rolf La cerimonia In piazza Sarà troppo forte Ero davvero emozionato Dai Uniamo le nostre forze E lavoriamo per rendere La nostra città Ancora più speciale Speriamo Speriamo Bene Io non vi voglio lasciare in 13 Visto che Tom Nook Ha finito di fare i conti Andiamo a scoprire insieme Il primo debito Non c'è andare giù pesante Vabbè Sarà 50 Qualcosa del genere 10.000 Meno male Avevo letto 100.000 Vabbè Dai Una cifra erisoria Sono d'accordo A fare fatto Tutto sommato 10.000 stelline Non sono esagerate Cioè Il primo debito Su un horizon Quanto era? 58 E' esilerante Come Tom Nook Ci dice E' molto meglio Che andrà alla ricerca Di lavoretti part time Sottopagati Proprio lui Proprio lui Che negli altri giochi Ci ha sfruttato Direi che possiamo Concludere così Il primo episodio Introduttivo Volete vedere altri episodi? Volete vedere come si evolve Del gioco Perché magari non ci avete mai giocato O semplicemente Volete ricordare I bei tempi Di New Leaf Lasciate un mi piace E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.